Crocevia delle qualità è stato il tema dell'edizione 2018 di Tipicità, una delle manifestazioni più importanti della nostra regione andata in scena fermo dal 3 a 5 marzo ed Unicam non ha voluto mancare all'appuntamento. L'intento è stato quello di far emergere la tipicità della ricerca Unicam evidenziando in particolare attività che riguardano il riuso e il riciclo di materiali nonché l'innovativo utilizzo di materiali naturali particolari che possono portare importanti benefici all'ambiente. Protagonista della sezione Art and Genius Unicam ha avuto in tipicità una vetrina importante per sottolineare ancora una volta quanto l'Ateneo possa essere punto di riferimento d'eccellenza per l'intero territorio regionale. Il rettore Claudio Pettinari è intervenuto al forum inaugurale nel pomeriggio di sabato ed ha poi visitato lo stand dell'Ateneo mentre nella giornata conclusiva è intervenuto al convegno sulla rigenerazione dell'Appennino Centrale, ricostruzione e sviluppo economico. Altri docenti dell'Ateneo sono intervenuti in qualità di relatori nelle tavole rotonde della manifestazione.